Al via i solenni festeggiamenti in onore di San Giuliano Martire, patrono principale della città di Giuliano. Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa presso la collegiata di Santa Sofia, è stato illustrato il programma liturgico e ludico, a sostenere le iniziative anche l'amministrazione comunale. Una festa importante dove l'amministrazione comunale è impegnata con un finanziamento, una sovvenzione di 15 mila euro in più rispetto agli anni precedenti. Siamo una chiesa importante, la chiesa della città, è oggetto di una ristrutturazione grazie a un finanziamento di rigenerazione urbana che la nostra amministrazione ha messo in campo. Un fitto calendario ludico con Gianluca Capozzi e Ivan Granatino nell'area mercatale, Luca Sepe in piazza Matteotti e la quinta edizione del Dance Festival. Una festa aiuta a crescere il popolo e a sentire fortemente la protezione di San Giuliano verso la città. Dal primo cittadino all'ultimo bambino di questo mondo. Riscoprire le proprie radici, riscoprire da dove si viene, serve anche a vivere meglio il presente e a programmare un futuro migliore. San Giuliano, giovane martire di 24 anni, soldato romano che diventa missionario anche nelle nostre terre, partendo dalla Dalmazia per annunciare che c'è un nuovo modo di vivere.